Resta lontana la soluzione per la nuova sistemazione degli uffici del giudice di pace di Avellino. Il comandante della Polizia Municipale dice no all'idea di spostarli nel convento di San Generoso, attuale casa dei vigili urbani, e lancia l'idea di caserma Litto, immobile di proprietà dell'ente provincia e soluzione visti i rapporti non proprio idilliesci tra festa e buono pane che appare di difficile attuabilità. Insomma per ora non si sblocca il risico trasferimenti immaginato dal sindaco Festa. Preoccupazione condivisa anche dalla Polizia Municipale ma abbiamo soprattutto illustrato le difficoltà e il cuore che poi la Polizia Municipale ha una sua sede e pertanto spostarla appare abbastanza complicato. Linea comune intesa nel voler proporre, spingere a una risoluzione del problema finalizzato alla caserma Litto. Qualora fosse necessario e imminente questo trasferimento, interessare anche il prefetto dell'opportunità della caserma Litto che andrebbe poi a soddisfare anche le esigenze dei giudici di pace e degli operatori che è a pochi passi dall'attuale sede. A margine il comandante Arbonio ha fatto il punto sull'imminente partenza della metro leggera e le ripercussioni sul traffico che l'opera prima ancora di partire sta già provocando. Effettivamente limitare la carreggiata al trasporto pubblico locale è evidente che crea un maggiore traffico, però speriamo che questo sia un servizio utile. Non è che i pullman girano da soli, c'è bisogno delle utenze e quegli utenti che lo utilizzano probabilmente non utilizzeranno il veicolo.